Tra gli indagati dell'inchiesta Flumen Luto, i cui relativi sequestri di terreni e fabbricati sono stati eseguiti giovedì dai carabinieri a Corigliano e a Rossano, ci sono anche il presidente della Regione Calabria ed ex presidente della provincia di Cosenza Mario Oliverio, l'ex presidente della provincia di Cosenza e sindaco del capoluogo Bruzio Mario Occhiuto, gli ex sindaci di Corigliano Pasqualina Staface e Giuseppe Geraci, gli ex sindaci di Rossano Franco Filareto e Giuseppe Antoniotti, numerosi dirigenti e funzionari di regione, provincia e comuni interessati e molti noti imprenditori locali. Questo è un primo intervento che è stato necessario per due fattori, il primo evitare le perdurare di un pericolo concreto e poi evitare che si possa continuare a costruire in zone pericolose come l'alveo di un fiume, ha detto nel corso della conferenza stampa che si è tenuta a Cosenza il procuratore di Castrovillari Eugenio Facciolla. L'alluvione del 2015, secondo i dati che abbiamo, è stato un evento normale che è diventato straordinario solo per l'intervento dell'uomo sul territorio, ha aggiunto Facciolla alla conferenza stampa dell'operazione Flume Nelluto. Ha partecipato anche Otello Lupacchini, procuratore generale della Corte d'Appello di Catanzaro, che ha sottolineato come eventi di questo genere sono causati dalla mano dell'uomo, concorsi d'acqua ristretti, deviazioni, tombature, creazione di terreni coltivati dove c'era prima il greto del fiume e dove può verificarsi nuovamente un'inondazione. Stiamo cercando di ricostruire tutta la situazione, questo è un primo intervento che è necessitato da due fattori, il primo evitare evidentemente che situazioni di pericolo concreto continuino a rimanere magari sulla testa di soggetti che sono inconsapevoli di questa situazione e il secondo evitare quello che purtroppo si sta verificando e abbiamo constatato in queste ore, nelle zone che erano già oggetto di insediamenti abusivi si è continuato a costruire, si è continuato addirittura nell'alvio di un fiume nella zona di Rossano, stanno realizzando dei palazzi, quindi una totale indifferenza e indolenza rispetto a quello che è accaduto e rispetto a quelle che sono le regole per poter realizzare opere edilizie in questo territorio. Parliamo di zone tutte R4 e poche R3, quindi R4 è il rischio massimo, rischio per la vita umana oltre che per danni alle cose etc., quindi è una situazione particolarmente delicata che ha necessito il nostro intervento. Se si va a deviare il corso di un fiume creando una sorta di curva artificiale dove il fiume addirittura dovrebbe risalire e poi andare a incanalarsi chilometri più avanti in un altro torrente, quando il suo corso naturale doveva sfociare a mare, evidentemente c'è qualcosa che ha determinato questa modifica. Se poi andiamo a vedere che cosa c'è su quel tratto di fiume dove è stata realizzata la deviazione, 2 più 2 fa 4, quindi chiaro stiamo lavorando in quella direzione. Sono il sindaco di Aieta, Gennaro Marsiglia finito in carcere, la moglie Chiara benvenuta ai domiciliari, oltre che l'imprenditore Andrea Biondi in carcere. Gli ha arrestati nel corso dell'operazione Appalto Amico, condotta ieri dalla Guardia di Finanza di Scalea. La Procura della Repubblica di Paola indaga fin dal 2009 su alcune gare pilotate in diversi comuni dell'Alto Tirreno-Cosentino. Secondo quanto emerso dalle indagini, Marsiglia nella sua qualità di funzionario, in passato a Buonvicino e Maglierà, avrebbe fatto in modo che a vincere alcuni appalti fosse la cooperativa all'epoca gestita dalla moglie e l'azienda dell'amico imprenditore. C'è una sorta di asservimento delle funzioni pubbliche ad interessi privati, ha detto il procuratore di Paola, Pierpaolo Bruni, in relazione agli arresti effettuati dalla Guardia di Finanza, che vedono coinvolti anche il sindaco di Aieta e la moglie. Io non faccio un ragionamento personale, onestamente perché sono già impegnato fortemente nel portare avanti questo sviluppo che abbiamo programmato per la città di Catanzara. Una cosa è certa come sindaco, lo dico chiaramente, credo che in questo momento il ruolo lo debba avere a Catanzara, perché lo ha avuto Reggio, lo ha avuto Cosenza, al di là dei nomi che può essere chiunque, purché si faccia una scelta oculata, ma io credo che ci dovremmo battere tutti i catanzaresi, compreso il sindaco, per avere questo ruolo a Catanzara. Credo che spetti a Catanzara dopo aver avuto un presidente di Reggio Calabria e di Cosenza. E devo dire che Catanzara non solo spetta per il sistema di rotazione, ma credo che spetti perché Catanzara è stata fortemente penalizzata rispetto alle altre province in questi anni. Sono 1847 i campionamenti effettuati dai tecnici dei servizi acqua e dei dipartimenti provinciali dell'ARPACAL in questo primo trimestre di campagna di balneazione 2018 e 3694 sono le determinazioni microbiologiche ottenute analizzando i due parametri previsti dalla normativa di settore. Di questo corposo numero di campioni prelevati, solo 27, cioè circa il 2% del totale, sono risultati non conformi ai valori limite previsti dalla normativa vigente. Per un tratto di costa, quello vibonese nello specifico, i prelievi di campioni sono stati sospesi sino a lunedì prossimo a causa delle avverse condizioni meteo che hanno interessato nei giorni scorsi quell'area. È questo un primo bilancio delle attività che l'ARPACAL sta svolgendo per la consueta campagna annuale di monitoraggio delle acque di balneazione che ha avuto inizio ad aprile e si concluderà a settembre. Catanzaro si sta dimostrando nei fatti il capoluogo della Calabria, lo ha detto il sinaco di Catanzaro Sergio Abramo nella conferenza stampa di presentazione del bilancio del primo anno del suo quarto mandato alla guida del comune. Oggi, ha spiegato Abramo, presentiamo tutta la programmazione che abbiamo messo in campo, una programmazione a tutto campo che va dai trasporti all'ambiente, dal sistema scolastico all'impiantistica sportiva, per arrivare alla cultura, tutto finalizzato alla città del futuro perché appena saranno realizzate tutte le opere. Catanzaro cambierà completamente volto, una programmazione importante che non sarà facile completare in quattro anni, ma, proseguita Abramo, siamo già in vantaggio perché molte opere sono state già appaltate, penso al sistema metropolitano di superficie o all'impianto tecnologico di Alli che permetterà di non avere problemi nella gestione dei rifiuti. Tra le programmazioni citate dal sindaco Abramo nell'incontro con i giornalisti, spiccano l'accordo di programma per 32 milioni siglato dal comune con la regione per il sistema dei parcheggi e della mobilità in città, con particolare attenzione al centro storico. Il progetto Agenda Urbana per altri 32 milioni, il finanziamento per l'ammodernamento degli autobus cittadini, il recupero di importanti edifici storici per un loro riutilizzo anche a fini sociali e culturali, gli investimenti per il completamento e il rilancio e la valorizzazione del porto di Lido ed il bando per lo sviluppo in chiave turistica dell'area di Giovino. Ascoltiamo Abramo ai nostri microfoni. Il sindaco di Catanzaro presenta i risultati e soprattutto uno sguardo verso il futuro. Sindaco, intanto partiamo da ciò che è stato fatto durante questo primo anno di lavoro. Dice bene soprattutto uno sguardo al futuro perché oggi non presenteremo le attività dei singoli assessorati, perché quello è normale amministrazione, ma presenteremo tutta la programmazione che siamo riusciti a fare in questo anno di lavoro. Una programmazione che ha 360 gradi, che parte dal sistema dei trasporti, alla questione dell'ambiente, al sistema scolastico, all'impiantistica sportiva, a quella che definiscono la città del futuro perché credo che appena saranno realizzate tutte queste opere Catanzaro cambierà completamente volto. Quindi credo che sia stato importante fare questa programmazione, sarà più difficile magari seguirla per completarla entro i quattro anni, però siamo già in vantaggio perché moltissime cose sono state già appaltate, come per esempio la metropolitana di superficie o l'impianto, la discarica, l'impianto tecnologico di alle che permetterà alla città di non avere più problemi sul sistema dei rifiuti. Però siamo avanti sulla programmazione e oggi vogliamo mettere un punto fermo che Catanzaro è il vero capoluogo della Calabria perché lo ha dimostrato anche nei fatti, nella programmazione, perché alcuni settori che non sono stati toccati dagli altri comuni, capoluogo di provincia, Catanzaro invece è riuscito a fare una programmazione come dicevo prima a 360 gradi. Ci stiamo occupando anche di materie che non riguarderebbero solo il comune di Catanzaro ma tutti i comuni della Calabria. Ci sono sempre resistenze al cambiamento ma ormai nessuno può tirarsi indietro perché altrimenti sarebbero accusati di aver affossato la sanità catanzarese. L'ho affermato ai nostri microfoni il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo con riferimento al progetto di creazione dell'azienda ospedaliera unica della città attraverso l'integrazione dell'azienda pugliese e del Policlinico Universitario Mater Domini. Ai microfoni di RTC Abramo ha chiarito il polo sanitario è uno dei programmi più importanti della nostra azione, da lunedì mi rimetterò a lavorare, non concederò più tempo a nessuno, né ai nostri consiglieri regionali né alla Presidente della Giunta regionale. Questa parte aver rappresentato oggi da me in questa conferenza stampa credo che sia una delle cose più importanti insieme anche al sistema dei trasporti perché credo che la città possa crescere fortemente per quanto riguarda il polo sanitario che abbiamo in mente di portare avanti e subito dopo questa conferenza stampa da lunedì mi metterò a lavorare perché non concederò più tempi a nessuno onestamente, né ai nostri consigli regionali né al Presidente della Giunta regionale perché questo per noi è la vera strategia di una città che vuole essere a vocazione di città sanitaria e della ricerca scientifica, quindi talmente importante questo settore per la nostra città che non permetterà a nessuno di giocare. Il 2 giugno scorso in occasione della Festa della Repubblica il Presidente Mattarella ha insignito su proposta del Presidente del Consiglio l'Avvocato e Professore Nunzio Raimondi della distinzione onorifica di grande ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Raimondi, catanzarese, avvocato cassazionista e docente dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, ha inoltre rivestito numerosi e delicati incarichi istituzionali, tra gli altri è stato rappresentante del governo nel CDA della UMG di Catanzaro, consulente giuridico delle commissioni parlamentari bicamerali d'inchiesta sull'affare Telecom Serbia, sull'occultamento dei fascicoli relativi ai crimini nazifascisti e di recente sul rapimento e la morte dell'onorevole Aldo Moro. Negli ultimi anni Raimondi si è dedicato alla materia dei diritti umani quale membro della delegazione italiana per i colloqui sulla giustizia penale tra Italia e Iran nell'ambito del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani, istituito presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. L'alta onorificenza sarà consegnata al professor Raimondi dal prefetto di Catanzaro in occasione della tradizionale cerimonia del prossimo mese di dicembre. Un ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria contro l'estensione delle strisce blu decise dalla comune di Catanzaro in altre zone del centro cittadino tra le quali il quartiere San Leonardo è stato presentato dalla Coda Conze e da alcuni operatori commerciali residenti. Nel ricorso proposto per il tramite degli avvocati Francesco Pitero e Francesco Di Lieto e detto in un comunicato vengono censurati gli atti comunali mancando gli elementi essenziali per l'adozione di provvedimenti che sono immediatamente lesivi, restrittivi e vessatori. Più precisamente nel testo viene evidenziato che il centro della città, che è già spopolato e desertificato, non può permettersi altre strisce blu che determineranno un ulteriore spopolamento con conseguente inevitabile ulteriore impoverimento. La presentazione del libro di Enzo Infantino e Tania Paolino Cagini e la tenda sotto la luna è stata l'occasione di una approfondita discussione sui temi dell'accoglienza dei diritti umani e su una lettura più attenta alle cause dei fenomeni migratori. All'incontro che si svolte nella cittadella regionale hanno preso parte, oltre agli autori, l'assessore regionale alla cultura Maria Francesca Corigliano, il giornalista e scrittore Arcangelo Badolati, il sindaco di Riace Mimmo Lucano e il referente in Calabria di Libera, Dompino De Masi. Badolati ha toccato con cura le ragioni geopolitiche che hanno caratterizzato le recenti guerre in Medio Oriente, dove enormi responsabilità, ha detto, sono in capo le grandi potenze occidentali spinte da una strategia tesa sostanzialmente al controllo dei giacimenti di petrolio presenti in quelle aree. Dove la vita è la domanda posta da Dompino De Masi. Tocca a ognuno di noi difenderla, ha sottolineato, questo nuovo postcolonialismo si preoccupa solo degli arrivi delle persone che fuggono dalle guerre, ma non delle cause all'origine dei fenomeni. In tutto ciò c'è la miseria umana di quegli stati che hanno reso possibile che nel nostro mare giacciono più di 40.000 morti negli ultimi 15 anni. Questo è il tempo di parlare, è vero, ha dichiarato il sindaco di Riace Lucano, attraverso le storie che Enzo e Tania tracciano nel libro. Mi accorgo che ci sono i margini e lo spazio per affermare ancora il valore dell'umanità contro l'attuale civiltà delle barbarie. Riace sarebbe diventato un paese fantasma senza quei curdi che solo il destino ha sospinto sulle nostre rive. I due autori hanno raccontato e analizzato le vicende di un popolo in fuga, quello curdo-siriano ricco di dignità e speranza. La chiave di lettura è diversa rispetto a quella che ci hanno fornito fino ad oggi i media mainstream, che raccontano cose totalmente riveste rispetto a quello che noi abbiamo proposto nel libro, cioè quelle sono state le ragioni, le motivazioni storiche, politiche del conflitto in Siria che hanno costretto 7 milioni di persone ad allontanarsi da quella terra. È un grande insegnamento culturale, ha commentato a conclusione del dibattito l'assessore Corigliano, quello che trasmette il messaggio del libro, una testimonianza positiva che mette in luce i controsensi del nostro vivere quotidiano. Con il Presidente Oliverio invece vogliamo essere attenti alla questione dell'accoglienza e vicini al modello Riace. Partenze e ritorni, incontri e luoghi, radici ed ali. C'è questo e tanto altro nel libro Chicchi di viaggio di Daniele Rossi, un viaggio tra parole e immagini scandito da punti scritti in aeroporto e istantanee che cristallizzano emozioni e sensazioni. Daniele Rossi, giovane presidente della Camera di Commercio e di Confindustria Catanzaro, ha presentato ieri nel complesso monumentale del San Giovanni a Catanzaro questa sua prima opera nata dall'esigenza di raccontare e condividere il suo vissuto di uomo, di imprenditore, di padre, di osservatore attento ed appassionato, amante dei viaggi e soprattutto della vita. E proprio di vita parla Chicchi di viaggio, il diario di un uomo curioso e sensibile che gira il mondo per passione e per lavoro, ma che poi torna sempre a casa dalla sua amata famiglia e nella sua terra, la Calabria. Sì, un viaggio della vita. Un viaggio della vita chiaramente ci sono dei luoghi come il Vietnam e come l'India che mi hanno lasciato tanto. Sono degli appunti, davvero dei chicchi, dei chicchi di appunti che ho scritto durante i voli intercontinentali, ho messo insieme, aiutato anche da molte fotografie. C'è molta emozione in questo libro perché quando viaggio incontro culture diverse, persone diverse, questo mi dà tanto. Luoghi, aneddoti e storie vengono narrati con un linguaggio semplice e diretto, anche con l'aiuto delle immagini che ritraggono paesaggi, volti e mani. Mani che toccano la terra e le corde più intime, così come i racconti dell'autore, che va in giro per il mondo con la consapevolezza di un legame forte e profondo con la propria terra e con gli affetti più cari, in primis quello con il nonno, Guglielmo Papaleo, ma anche con uno sguardo rivolto al futuro che lo riporta al ruolo di padre e lo spinge a descrivere anche la condizione dei bambini meno fortunati, con l'aroma del caffè sempre in testa e nel cuore. Chiaramente c'è un cenno, il cenno più bello forse a mio figlio, dalla nascita a una cosa che facciamo insieme. E poi questi bambini che ho incontrato spesso in Vietnam e poi un bambino che ho incontrato in India, che è stato per me un incontro molto particolare, un bambino nudo, completamente nudo, che mi ha lasciato avere il senno. Viaggio ma poi ritorno, il nonno è una persona per me importantissima, mi ha dato tanto, mi dà tanto, quindi rapporto anche col caffè, chiaramente nel libro è menzionato parecchie volte il caffè. E la terra, la Calabria, che sono calabrese, questa è la cosa più bella. Ai Box Art di Cosenza un interessante finissage ha chiuso la prima residenza artistica curata dal professore Giacinto Di Pietrantonio, dal titolo La Città del Sole. Sono stati 22 gli artisti che hanno lavorato, veri e propri talenti provenienti da diverse parti del mondo, che hanno apprezzato sia le bellezze di Cosenza che l'esperienza artistica dei Box Art. Appena cominciò ad aggirare ho trovato quel ponte di Calatrava, che a me è piaciuto tantissimo, poi il resto, però comunque è bella città, anche cibo da mangiare, è molto buono. I Box sono fantastici, la città è vivace e il gruppo che si è creato è fantastico e poi stare con Giacinto è sempre un piacere enorme. Conosciuto tanti amici, ho fatto un lavoro che a me piace, ho mangiato bene qua, la città mi piace molto. È stata un'esperienza molto intensa e la relazione territorio con Cosenza si è rivelata un'esperienza veramente molto profonda. Il progetto di residenza con la sua forte connotazione internazionale esprime con forza il concetto dell'universalità dell'arte che trova ispirazione proprio nel confronto e nel dialogo tra le diverse identità. Una contaminazione con il territorio ma anche una partecipazione attiva della città e dei cittadini che potranno esporre alcune delle opere prodotte nelle loro case. Questo è un progetto straordinario che sta avendo applauso in tutto il mondo, Cosenza città fabbrica creativa, Cosenza città dell'arte contemporanea che è non solo un museo, in questo caso quello che abbiamo realizzato all'interno del compresso monumentale di San Domenico ma soprattutto un museo vivente, cioè che si rinnova costantemente e che porta questa contemporaneità all'interno della città contaminando i luoghi, contaminando il centro storico e le persone che vivono la città. L'annuncio è arrivato nella tarda serata di giovedì, la Serie B inizierà da Cosenza. Sarà infatti la città calabrese ad ospitare il primo atto che avvia ufficialmente il campionato della prossima stagione cadetta. Cosenza accoglierà a fine mese infatti tutti i 22 presidenti delle squadre di Serie B, dirigenti della Lega e della FIGC e molti importanti ospiti del mondo dello sport per l'evento dei sorteggi dei calendari per la nuova stagione. Nei prossimi giorni si definiranno i dettagli organizzativi di questo atteso appuntamento nazionale di Scena Cosenza. Intanto è stato approvato dalla Giunta Comunale il progetto definitivo per gli interventi manutentivi con suddivisione in lotti dello stadio San Vito Gigi Marulla. Il quadro economico della spesa, riporta una nota del Comune, è pari ad un importo di euro 979.624, di cui 760.908 euro per lavori e doneri per la sicurezza, nonché 240.878 euro per somme a disposizione dell'amministrazione comunale. La spesa complessiva sarà finanziata tramite richiesta di mutuo presso il credito sportivo. Gli imminenti interventi manutentivi suddivisi in quattro lotti riguarderanno i lavori per il miglioramento del manto erboso, lavori per il miglioramento del sistema compartimento interni, acquisto beni e forniture ed implementazione di sistemi elettrici ed audio. L'amministrazione comunale provvederà a stilare uno cronoprogramma nel rispetto delle norme previste dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie B, considerando tuttavia che i tempi di realizzazione saranno soggetti a diversi passaggi burocratici a cui lente vincolato. La società US Catanzaro ha reso noto nella serata di giovedì di avere portato a termine un'operazione di mercato in uscita con la cessione del terzino Francesco De Giorgi che viene trasferito a titolo definitivo alla Viterbese. A De Giorgi, che ha vestito la maglia delle Catanzaro a partire da gennaio, va il ringraziamento delle club di noto per il suo impegno e gli auguri per il futuro personale e professionale. Intanto un'operazione in entrata per la regina 1914, quest'anno affidata in panchina all'ex difensore amaranto Roberto Cevoli. Il DS Taib infatti ha acquisito le prestazioni sportive del centrocampista Simone Franchini, proveniente dal Sassuolo con la formula del prestito secco. Oggi parliamo di calcio mercato anche per quanto riguarda le categorie inferiori, quelle dilettantistiche, nello specifico il campionato di eccellenza calabrese. Si muove bene l'ASD Corigliano Calabro, rotto il ghiaccio con l'arrivo del difensore Cassaro, la società ionica prosegue il rafforzamento dell'organico tecnico. Nelle ultime ore infatti ha ufficializzato anche il centrocampista Giovanni Biondo, classe 91, proveniente dalla compagine siciliana dell'Igea Virtus, con la quale ha disputato le ultime due stagioni di Serie D gironei e precedentemente sempre con i messinesi anche due annate di eccellenza sicula. In totale nei quattro tornei con la squadra di Barcellona Pozzo di Gotto, Biondo ha segnato bene 19 retti, mentre in carriera ha vestito le maglie di Tiger Brolo, Mazzara, Acragas, Noto e Due Torri e sempre tra eccellenze Serie D. Arriva quindi un nuovo e valido tassello per il centrocampo coriglianese. Biondo offrirà certamente il suo valido contributo al reparto della formazione ionica. Le impressioni sono ottime, già dal primo incontro che ho avuto con il presidente mi ha dato subito dimostrazione di un grande progetto dove ci sono stato pochissimo a prendere una decisione che penso sia stata quella giusta per andare a raffrontare un nuovo campionato. È un importante campionato dove dovremmo realizzare gli obiettivi che ci impone la società. Ti ripeto, è un campionato importante. Ti dico che non conosco bene il campionato però ci sarà il tempo per conoscerlo, ambientarsi e affrontare una bella stagione. Il Corigliano dimostra di aver approcciato molto bene la nuova stagione nella quale intende senz'altro vestire i panni di protagonista. Sì, Giovanni è un giocatore che proviene dall'Igea Virtus. L'anno scorso ha fatto un ottimo campionato sia come squadra che come lui singolarmente. È un ragazzo che effettivamente nell'arco degli anni addietro ha dimostrato tutto il suo valore vincendo anche un campionato di eccellenza in Sicilia. Chiaramente allestendo una squadra importante siamo andati a cercare come le dicevo nelle varie interviste, grazie al direttore Caramenici che ha fatto un lavoro certosino, giocatore di spessore, di valore e soprattutto uomini. Perché noi abbiamo fatto una scelta importante, prima gli uomini e poi il calciatore. Sicuramente un tassello importante per tutto il reparto centrale. È un giocatore di qualità che può darci una grossa mano sotto l'aspetto qualitativo ma anche quantitativo. È uno che conosco bene, l'ho visto già in passato nei campionati, siamo stati pure avversari. È un ragazzo che non si risparmia, quindi da lui ci aspettiamo molto e spero che si possa ambientare subito e iniziare subito come lo conosciamo noi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.